Musica Ancora disagio a Torre del Greco, regati alla raccolta di rifferenziata e rifiuti. In particolare lunedì mattina la città risulta quasi sempre sporca. Ne parliamo oggi con il consigliere delegato Luigi Mele. Il problema del lunedì è un problema che abbiamo da quando abbiamo iniziato il servizio porta a porta, o meglio da quando hanno iniziato il servizio porta a porta, perché ricordo sempre a tutti gli amici che ci seguono che io sono appena tre mesi che mi sto occupando direttamente di rifiuti e di NU. Praticamente siccome sappiamo bene che il sabato sera non si deposita e invece purtroppo i nostri concittadini continuano a depositare e la domenica quindi è un giorno di festa per i lavoratori della nettezza urbana, chiaramente lunedì andiamo in sofferenza e ci ritroviamo la città nelle condizioni in cui abbiamo visto ieri. Stamattina proprio abbiamo fatto un incontro con la ditta per capire come poter risolvere questa problematica. Chiaramente abbiamo individuato una soluzione della quale chiaramente dobbiamo capire le possibilità rispetto al contratto attualmente ancora in essere, se è possibile attuarlo oppure no. Non voglio anticipare perché vogliamo prima capire la fattibilità. Se riusciamo effettivamente a portare avanti questa cosa, che sicuramente è un progetto che potremmo applicare sul centro storico dove abbiamo più difficoltà a far capire alle persone come va differenziato e quindi anche per problemi di spazio veri e proprio, chiaramente potremmo avere una soluzione importante per la nostra città e quindi non ritrovarci nelle condizioni in cui siamo il lunedì. Quello che sembra mancare sono anche i controlli, soprattutto in questi giorni in cui il sistema di raccolta è assente. Certo, chiaramente sappiamo benissimo che gli uffici comunali sono sottodimensionati, l'abbiamo detto più volte. Dall'altra parte c'è un nucleo di vigili che segue un po' i problemi della NU, però chiaramente i vigili alle 8 vanno via e quindi non riusciamo a seguire quelli che sono gli sversamenti che avvengono soprattutto nelle ore notturne. Stiamo cercando di programmare uno straordinario anche per i vigili in maniera tale da poter prolungare l'orario di lavoro e dall'altra parte con la dirigente della nettezza urbana stiamo provando con un bando, quindi dobbiamo approvare in bilancio la somma necessaria per poter destinare alle associazioni e ai comitati di quartiere la possibilità di formare delle persone che possano fare sensibilizzazione sul territorio con un rimborso spese che chiaramente sarà quello previsto dalla norma. Per quanto riguarda invece la questione centro servizi, ci sono novità? Proprio ieri ne abbiamo parlato con il Presidente del Consiglio, l'Avvocato Catano Fruglio. Faremo a breve una riunione di maggioranza per capire un po' quelle che possono essere le richieste da parte di ognuno, le istanze che magari loro raccolgono da parte dei cittadini e capire in che modo magari va modificato il progetto attualmente già approvato da tutti gli enti sovraordinati e se è possibile migliorarlo nelle forme in cui ci siamo detti, quindi eliminando l'umido, prevedendo quindi soltanto la raccolta del secco dando la possibilità così alle persone del territorio che hanno la necessità di dover buttare ingombranti o materiali inerti che oggi la grossa difficoltà qui a Torre del Greco è quella di dover buttare i materiali inerti. Chiaramente chi ha la necessità di cambiare un lavabo o un vaso all'interno dei propri servizi genici ha difficoltà a dover martire queste cose. Quindi questa è una cosa che assolutamente va fatta. Duro attacco ieri del consigliere Caldarola con una lettera inviata all'amministrazione. Diciamo che chi sta all'opposizione chiaramente deve fare opposizione e lascia il tempo che trova. Io l'ho detto sempre, fin dal primo momento, e lo facevo anche quando stavo all'opposizione, cercare di dare i giusti suggerimenti e non fare campagna elettorale, diciamo così, perché intanto siamo lontani dalla campagna elettorale, è inutile. Diciamo che io consiglio ai consiglieri attuali di opposizione, proprio perché erano maggioranza, di portare dei progetti, magari da poter attuare, anziché perdere tempo a fare cose che dal punto di vista politico sono solo strumentali e basta. In conclusione, sempre parlando di una possibile e futura campagna elettorale, ci sono possibilità per una nuova candidatura a sindaco per lei? In questo momento penso a lavorare per la città, poi si vedrà in futuro. Grazie per la visione!